Oltre 500 pagine è frutto di un intenso lavoro archivistico e storico-artistico per dare collocazione e classificare, con metodo scientifico, tutte le opere che fanno parte del tesoro del Museo della Cattedrale di Aosta. Il volume, realizzato attraverso i fondi dell'Assessorato dell'Istruzione e Cultura, è stato presentato martedì 13 maggio scorso nel Salone del Vescovado di Aosta. Il catalogo si articola in una prima parte che ricostruisce la storia dell'antico tesoro della cattedrale, costituito da capolavori che vanno dal I secolo d.C. al XIX secolo e le vicende della sua musealizzazione. Il repertorio delle opere del museo è diviso in gruppi tematici, arredo romanico, scultura e plastica monumentale, sculture arredi linei, oreficerie e arti preziose, paramenti liturgici, pittura e dipinti. All'interno di ogni sezione emergono le eccellenze del museo e più in generale di tutta la storia dell'arte valdostana. Il volume è nato nell'ambito delle iniziative promosse per il nono centenario della morte di Sant'Anselmo e fa seguito al restauro della cattedrale, i lavori di adeguamento e riallestimento del museo del tesoro realizzati per l'occasione. Un catalogo che forse va un po' contro tendenza con i tempi rapidi di pubblicazioni che a volte sono un po' efimere. È un catalogo che ha richiesto tanto tempo, studi di approfondimento, è stato realizzato in collaborazione con l'università e quindi abbiamo esplorato, analizzato, studiato un patrimonio ancora poco conosciuto al fine di valorizzarlo e questo non è un punto d'arrivo ma un punto di partenza per nuove ricerche e crediamo anche di aver condotto una metodologia importante perché al catalogo è abbinato anche uno studio sul lapidario piuttosto che sulle gemme quindi abbiamo lavorato con una logica di interdisciplinarità che non potrà che far bene ai beni storico-artistici. Come ha sottolineato il vescovo di Aosta Monsignor Franco Lovignana, il volume accompagna il visitatore del museo con approfondimenti scientifici che lo aiutano a ricreare il contesto storico, culturale e religioso in cui gli oggetti esposti sono nati, ma all'arte sacra, detto Lovignana, va restituita la funzione ecclesiale per renderla comprensibile sul piano dell'annuncio e della catechesi. Il volume è stato curato da Enrico Castelnuovo, Fabrizio Crivello e Viviana Maria Vallè e rappresenta uno sforzo a più mani prodotto grazie alla partecipazione di studiosi ed esperti. Possono essere ricordati almeno tre opere fondamentali. Possiamo ricordare a partire dalle più antiche il dittico di Probo che rappresenta un caposaldo nella storia dell'intaglio in avorio di epoca tardo antica. Possiamo scendere nel XII secolo con i due tondi di vetrata che appartenevano all'invetriatura romanica della cattedrale e poi possiamo ricordare la Cassa di San Grato, opera di questo importante artista Jean de Malin, del quale non conosciamo la storia precedente al suo arrivo ad Aosta, ma intorno al quale si snoda una grande bottega della orafa nel Quattrocento. Grazie a tutti!